ciao sono luigi lulli sono consulente assicurativo quest'anno mi sono cimentato con la scuola di assicuratore facile era un percorso che ci tenevo a compiere e sono veramente soddisfatto di tutto quello che ho appreso in questo percorso devo ringraziare sicuramente simone perché lui ha risposto secondo me con tutti questi strumenti ai dubbi che noi consulenti abbiamo nel nostro percorso professionale e soprattutto ha messo in atto un metodo che realmente ci aiuta la scuola è un approfondimento di questo metodo e io la consiglio a chiunque fa c'è il mio mestiere perché ti fa capire in maniera completamente diversa qual è l'approccio da tenere con i clienti ma anche quello di mettersi in discussione perché poi ognuno di noi pensa di essere il più bravo e pensa di essere quello che fa le cose meglio in realtà un po di umiltà non fa male ci si rimette in discussione si torna a scuola come quando eravamo più piccoli alla fine c'è anche la soddisfazione di prendersi il diploma diciamo così voglio anche sottolineare la straordinaria organizzazione della scuola che in questa fase ha lavorato in emergenza perché io ho iniziato la prima aula a giugno poi dopo l'estate ci siamo ritrovati in pieno nel problema coronavirus non hanno perso un colpo tra collegamenti a distanza ancora scuola qui in presenza e di questo ringrazio a trassimone tutto lo staff perché da salvatore a tutte le ragazze ti danno un'assistenza costante in tutto in tutto questo percorso per cui sono pienamente soddisfatto di quanto fatto è stato impegnativo sicuramente però ripeto è un consiglio che do a tutti gli assicuratori provate la scuola